L'altalena per i disabili installata in peria nel parco urbano a spese del genitore di un bambino portatore di handicap è inutilizzabile ormai da 20 giorni e continua a essere bloccata da una catena con lucchetto. La giraffa Rotelle, associazione che si occupa dei diritti dei disabili, ha ora riproposto il problema all'attenzione dell'opinione pubblica, sostenendo che si tratta dell'unico gioco utilizzabile da bambini purtroppo costretti sulla sedia Rotelle e che nessuno finora ha mosso un dito per risolvere la questione. La chiusura era scattata in quanto alcune parti dell'altalena vanno soggette a rottura se utilizzate da bambini normodotati. Genitori e associazioni per diversamente abili chiedono a gran voce che questo unico gioco particolare venga ripristinato quanto prima.